Medicinali e dispositivi medici scoperti nelle abitazioni di alcuni dipendenti riconducibili all'istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari sono stati scoperti dalla polizia nel corso di perquisizioni eseguite su ordine della procura di Bari. L'inchiesta nasce a seguito delle segnalazioni di diversi furti all'interno dell'istituto. In particolare gli agenti hanno effettuato sia perquisizioni all'interno dell'istituto tumori Giovanni Paolo II che in casa di cinque indagati, tre dei quali proprio dipendenti dell'ospedale. L'inchiesta, partita circa un anno fa sulla base di alcune segnalazioni arrivate agli inquirenti baresi anche dalla struttura ospedaliera, è coordinata dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli con il sostituto Ignazio Abbadessa. Le perquisizioni eseguite nei giorni scorsi hanno consentito di rinvenire e sequestrare nella disponibilità degli indagati ingenti quantitativi di medicinali e dispositivi medici chirurgici. L'ipotesi investigativa è che gli indagati sottraessero farmaci e attrezzature all'ospedale per utilizzarle fuori dalla struttura. Una delle attività illecite ipotizzate è quella degli infermieri che abusivamente offrono servizi sanitari come prelievi o altri tipi di assistenza domiciliare. Il numero degli indagati si apprende da fonti investigative è però destinato a crescere e infatti sono già in corso ulteriori accertamenti sul coinvolgimento di altri soggetti interni ed esterni alla pianta organica dell'istituto barese.